Lo sfratto, o meglio la risoluzione della convenzione ordinata dal Tribunale di Sulmona, era arrivato nel novembre 2021 ed ora, per la cooperativa che gestisce la Casa Famiglia di Campodifano, frazione del Comune di Prezza, è tempo di fare le valigie. L'ufficialità è arrivata l'altro giorno, quando il legale rappresentante della Coppa ha scritto al Comune di Prezza per comunicare l'avviamento delle procedure di trasloco. La richiesta di trasferimento viene effettuata in quanto il Comune, proprietario dell'immobile, in cui è situata la comunità educativa, ha richiesto di liberare lo stesso. Verrà garantita continuità nella realizzazione dei progetti educativi individualizzati dei minori, assicurano dalla cooperativa. La querelle era finita sui banchi della giustizia e il Tribunale aveva ordinato il rilascio dell'immobile. Tempo qualche giorno che ospiti e operatori dovranno cambiare comunità, contesto sociale e culturale per proseguire le varie attività. Già due anni fa il Comune aveva deciso di riprendersi l'immobile, che ora cambierà completamente natura e vocazione.